Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui in ritorno su Fortnite in compagnia della mia ragazza Salve Per provare, continuare, anzi a provare tutte le novità dell'aggiornamento che c'è stato ieri per Natale, ho già fatto un paio di video al riguardo Oggi ci concentreremo un po' più sul gameplay di queste novità E dobbiamo anche andare a riscattare il primo regalo del capanno, ragazzi, tra poco lo andiamo a riscattare Ma prima, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GigiY Tutto grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite Mi raccomando, ragazzola, è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GigiY Non ti tutto grande, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie a vero di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace Nel capanno, ragazzi, ci sono un paio di chicche Per esempio, ogni tanto potreste trovare a terra della pizza Voi raccoglietela perché vi dà 10.000 di esperienza Potrebbe darvene ancora di più Come l'anno scorso, se cliccate sul camino, diciamo Potete guadagnare esperienza Voi rimanete qui e vi fa esperienza E una volta al giorno potete ritirare un pacco, diciamo così Tranne questo qui, che è quello della skin Sicuramente Tranne questo qui, ragazzi, che è da tenere per ultimo E spoiler Vi sto per spoilerare tutti i regali di tutti i pacchi Quindi se non volete spoiler, schippate questi 10-15 secondi in cui vi faccio vedere le immagini Perché ve li mostro tutti Perché è interessato se almeno tutti possono vedere i regali e se li scelgono giorno per giorno Quindi ecco le immagini, ragazzi Tutti i pacchi sono già stati spoilerati Quindi a seconda di quello che vi interessa Andate a ritirare Quindi qua c'è la skin C'è la skin finale da tenere per ultimo Ma c'è anche un altro pacco da tenere per ultimo Che è questo qui che sta tenendo gaff Che come vedete non ve lo fa aprire Vi dice no, andatevene via Io oggi, ragazzi, voglio ritirare questo pacco qui Perché sostanzialmente ci sta il piccone Cioè il piccone, ragazzi, è troppo carino Quindi me lo voglio andare a sbloccare E attenzione Eccolo qui Mamma mia, spaccanoci Troppo bello Tu, amore, che hai ritirato per primo? Il balletto Il balletto Il balletto Ci sta, ci sta, ci sta Le motte ci sta Detto qui Ero molto tentata dalla copertura Quella che ho fatto a tenere Sì, anche la copertura È la lobby Mi ha aperto il capanno di mezz'inverno nella lobby No, voglio vedere, mi alzo Cioè, ragazzi, questa è la lobby No, aspettate, tolgo anche la cam Cioè, ma che cosa? Non so neanche come uscirne Tipo, cioè, se clicco qui E ritorno Ok, va bene Perfetto A posto E niente Facciamo la lobby con Serena E andiamo a giocare Sperando di trovare il sergente Ok, ragazzi Anche il bus Ovviamente è stato addobbato Troppo carino, ragazzi C'è sempre stato Sto Babbo Natale Molto carino Magari tentiamo di fare una partita Non troppo complicata Andando lì Anche perché Anche perché Il nostro obiettivo È quello di trovare Il sergente E appunto Il lanciapalle di neve Che in realtà Sono sembrate due cose Impossibili da trovare Nella giornata di ieri Speriamo di essere Un po' più fortunati Ma, raga Cioè, questo mi ha Atterrato addosso così A farsi il bar Cioè, il camion Cioè, non Va bene C'è il camion di slurp Sì, c'è il camion di slurp Per quello Infatti ti stavo per chiamare Ma guarda pure questo Col pump questo Oh mio Dio Ma che è Ma non l'ho neanche sentito scendere Cioè, ma tanto sono arrivati questi, raga Vabbè, a casissimo Perfetto Dai, facciamoci il barilotto E via E continuano a sparare di là Mi scusi, ma lei che ci fa Con le mie ali addosso? Eh, perché sono troppo belle Sono troppo belle Allora le stavo tenendo anche io Stavano continuando a sparare di qua E continuano Che cosa? Ma Ok Ok No, non mi è entrata neanche una hit Bello con gli MR Ok Strega surf spaccata Non mi è entrata l'ultima hit Ma dovrebbe essere mezza one shot Ok E dove stanno gli altri? Non lo so Stavano sparando a qualcuno E stava scappando di là C'è la settimanale di fare danni con la mitraglietta E tu me li finisci di pompa Yes Mi sparano dal Da dove mi stanno sparando? Ah, questo che però sta scappando Questo mi ha iniziato a sparare E poi sta scappando Va bene Va bene No, non mi stanno più entrando i colpi Poi con sto fucile, regà Sembra sempre ti si stia scaricando C'è l'audio che fa Il sound effect Sì Il sound effect Grazie Gigi Che ce la fai ogni tanto a dirle le parole È molto ambico Cioè mi dà Mi dà quasi fastidio Perché ogni colpo sembra quasi che stia finendo il caricatore Ah, c'è gente di qua Allora Raga, comunque è incredibile come non si riescano a trovare queste cose nuove Sì, mi sono messa pure la chiappa mucca nella macchina Ho sfondato mezza città praticamente Non mi è uscito Bello Allora, vediamo un po' Ok No Eh, manco gli ho rotto lo shield Ah, ok Mi sta pushando Perfetto Ah, gli altri stanno Stanno Eh, vabbè Sì, le hai visti Sì Mi hanno anche tolto il suo rascudo Allora Ok Ok Perfetto Ma neanche loro hanno Nulla di quello che ci interessa E non stiamo trovando neanche appunto nemmeno il sergente Raga Ah, allora Ho trovato un regalo I regali di Natale Che questi dovrebbero essere come quelli di un tempo Perfetto Ma L'arco rampino ho trovato Amore, ho preso danno da caduta così a buco Ma Ero bassissima tra l'altro Cioè, se avete detto dove sono caduta ridi Ok, vedo un attimino Comunque raga Io continuo a non capire Come sia possibile che non stiamo trovando il lanciagranate Delle palle di neve Raga Cioè, veramente non capisco Cioè, ci siamo anche divisi Stiamo cercando ovunque Io veramente non capisco Cioè, sono caduta esattamente dove mi trovi, eh Non so nemmeno se faccio in tempo No, non mi dire così Eh Sei qua dietro Quanto stai? Qua sotto No, quanto stai? Otto, no, niente Porca miseria, oh Ma mi sono pure mosso subito Incredibile Sì, ma sono morta qui Ti rendi conto di quanto è basso? Eh, oddio Bassino Non tantissimo Eh, la madonna Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha lui Epico Ok La mia morte è servita, allora Sì Anche lui ce l'ha Ma dai, vabbè Nuova gara Eh, perché c'è la missione Sì, l'ho preso L'ho preso Le 53 ragazzi Lascia un pochettino a desiderare però, eh Pensa che ci deve uccidere qualcuno con la missione Eh, io ho paura dell'NPC quasi più che di loro Ho quasi più paura dell'NPC che di loro Tra l'altro questi Mi sa che hanno ucciso Quelli con cui stavo fai dando io Quando sono caduta Oh, niente Non lo piglio quello Mo ci muoio per usarlo, regà Mo ci muoio per usarlo No, l'NPC Eh, lo so, l'NPC Te l'ho detto La cosa più pericolosa Ma più che altro mi devo muovere Perché sta arrivando Qualcuno ha preso un Rift Sì, no, ma mo lo piglio pure io Che sta arrivando la tempesta Oh mio Dio, regà Fa abbastanza schifo Fa abbastanza schifo, signori Ma non poco Non poco, signori Eh, infatti ho anche quasi finito tutti i colpi Ah, tra l'altro Eh, no, Rift No, mi potresti rebuttare qua Eh, ma non so Ah, di là Sì Ok, vediamo È in safe qua Poi mi spiegano questi qui dove l'hanno trovato Che noi ci siamo fatti in mezza mappa Senza trovarlo manco una volta Oddio, che bello il piccone Eh, te l'ho detto Il piccone era bello Qua ci sono un po' di armi Quindi poi te le potresti prendere Spero che non mi killi nessuno Adesso che abbiamo trovato il coso Ci provo Non ci credo Stiamo sparando a sinistra La prima hit che Tarios le metti Eh, quello sì Spero che non mi la... No, passi No, è sempre lui Oh, è godo Eh, mi spara quello là giù Eh no, c'è proprio uno qui Beh, sta combo mi piace però, eh Ah, erano due team diversi Sì, sì, sì Due team diversi E gli stavano sparando Anche a lui stavano sparando questi Oh, ah, cinghiale Senti, eh Amore mio, ormai fai uno v tre Eh, lo so No, uno v tre non credo Eh, no, sì Perché conta quello... L'NPC Ma quanti ne hanno assoldati? Ma mo' dov'è sta Renna che ho ucciso? Mi volevo prendere dei razzi Volevo prendermi dei razzi Se ci stavano Oh mio Dio Dovrebbe essere del compagno della zucca L'NPC comunque Sto facendo un casino con le armi, ragazza Mi ha switchato tutte le armi in maniera sbagliata Questo qua Oh mio Dio Guarda, guarda quanti NPC Guarda Ma quanta vita hanno Dai, su Però non possono farli così Gli NPC Ci hanno troppa vita Almeno una volta che li ha soldi Cioè fanno da tank Fanno Ma mo' questi che ho ucciso Eh, lo sto arrestando Eh, sì Ok Eccolo laggiù Oh, la cinghiale Ma è rotto Basta È l'ultimo Oh mio Dio Ma perché... Ok, eh sì L'ho notato Allora, provo Ok Vediamo se riesco No, non riuscirò mai a finirlo così Ah, facciamo un po' così Va, fra 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 No, ci muoio L'automira Oh mio Dio Ma dove è andato? Dietro, dietro No, sta lì Sta lì, amore Sì, è lì dietro E c'è lo spray Lui si sta curando la vita Eh, l'ho notato E io questo, raga, me lo tolgo però C'era un altro me di nebbia Però non so se... Eh, amore Hanno citofonato Sì, vai a dire Che sono un attimino impegnato con Fortnite Allora Oh mio Dio, regà Eh, quello c'ha il martello E mo' me vuole pure distruggere la roccia Io non c'ho movement Fa abbastanza schifo, comunque, lancia granate Però, il fatto che esploda subito Oh, senti, mi ha rotto le scatole con sto martello Ecco, basta Su, tra l'altro mitico ce l'aveva No, ma che poi, aspetta C'aveva quello mitico Quindi hanno aggiunto il martello mitico Perché prima il boss lo rilasciava epico Eh, mi pare che c'era stamattina nei quali di gioco Quindi l'hanno aggiunto anche mitico, raga Ragazzi, credo che... Non uscirà solo questo video Quest'oggi credo che a pranzo uscirà un altro video Dove andremo a provare un attimino dal boss Se effettivamente sarà così Ci facciamo un video dedicato Altrimenti no Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Lasciando un bel mi piace Vi ricordo, ovviamente, il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Per noi tutto Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao